Beh, perché Sanremo e Sanremo ci vuole Luciano Pazzaglia, mi pare giusto. Sto provando a fare il collegamento con la caramella in bocca, a parlare con la caramella come fa la De Filippi, no? Non ce la faccio. No, la devo togliere. Ciao a tutti, buon poveriggio. Ciao Luciano, come va? Tutto a posto. Ieri sera ho resistito un po' di più. Ho fatto una mezz'oretta in più, 23 e 30, un record storico per me, per questa edizione di Sanremo. Ma non ti ricordi quando c'era Pippo Baudo gli anni 80 che le 3 e le 4 di notte si arrivava? Anche lì? Non mi ricordo. Tu dici, a proposito di Baudo, la serata di ieri sera, la terza sera è sempre quella che va peggio, perché la gente ormai si è abituata. Poi ieri sera c'era anche l'LGF contro... Vabbè, comunque, sta di fatto che ieri sera la serata ha avuto di nuovo uno share altissimo, 9 milioni e 4, sono risultati da nazionale di calcio. E ieri sera ha battuto anche il record della terza sera del festival, sempre a Di Baudo, del 95, quello in cui vinse Giorgia. E quindi, insomma, per adesso è il festival più visto di sempre. Incredibile, ma vero, vedi? E quindi ce lo porteremo avanti, Amadeus, vita natural durante secondo me. No, un altro anno sicuro perché ha firmato il contratto, doveva fare tre anni dall'anno scorso. Poi credo basta, insomma, facciamo largo ad altri. Però certo è che se porta questi risultati, ma non solo di ascolto al festival, se li porta, anche risultati alla discografia, cosa che ha portato. Perché mai, come l'anno scorso, per esempio, sono stati venduti i pezzi di Sanremo, beh, insomma, ben venga che resti. Certo, una ventata di nuovo. Eh, non ci starebbe male. Ci starebbe, ci starebbe. Si è chiusa, dunque, la terza serata del festival di Sanremo. E ieri sera ci sono stati praticamente i televoti. Quindi, codice 01, codice 02. Cosa ti avevo detto, Daniela? Cosa sarebbe successo, una piccola rivoluzione? È successa, una piccola rivoluzione. Nel senso, Marco Mengoni, amato dalla stampa e dal pubblico nello stesso modo, è infatti rimasto primo. Ultimo, che stava decimo nella classifica della sua serata, adesso è secondo. Hai capito? E il pubblico, quando si scatena e quando vuole far sentire la sua preferenza, lo fa alla grande. Con Ultimo c'è riuscita. Grande zampata di Ultimo. E quindi adesso qui c'è da tremare. C'è da tremare. Sicuramente saranno via a televotare perché c'è da tremare con Mengoni e Ultimo. Io conosco una signora che ha una certa età, che è proprio innamoratissima di Ultimo. Non piace soprattutto le ragazze. Eh, ma sono in tantissimi, sono in tantissimi. Tra l'altro, Ultimo stasera, nella serata dei duetti, duetta con Ramazzotti. Ma quanti voti li porterà Ramazzotti a Ultimo? Perché poi, sai, Ramazzotti è un artistone, un artista internazionale. Se sceglie di venire a Sanremo a cantare con Ultimo, significa a che lo stima, o è che magari può anche vederlo un po' come un erede, e portarli, secondo me, a un sacco di voti. Attenzione. Vero. Terzo, Mr. Rain. Quarto, Laz. Quinto, Tananai. Ecco, per Mr. Rain anche questa è una bella sorpresa, eh. Perché, insomma, lui ha fatto una bella zampata in avanti. Tananai hai detto quinto? Quinto, sì. Ah, quinto, Tananai. Devo dire che ieri sera ho ascoltato bene la sua canzone, ho guardato l'interpretazione, mi è piaciuta tantissimo. Sì, eh. A me è piaciuto, la prima sera sì, proprio ieri sera ho sentito meglio la canzone e ho detto, bah, insomma. Mi sembra una canzone che avrebbe potuto cantare chiunque negli anni 80-90, tipo Stefano Sani. Cioè, tutta la modernità di Tananai in questa canzone qua, io non la sento, non so tu. Mi sembra proprio, è una classica canzone sarremese, siccome non ci sono più le canzoni sarremesi, come? Tu che sei uno dei giovani mi vai a fare un pezzo proprio sarremese? È Sanremo quella, eh. Quindi tu l'hai già bruciato? No, non l'ho bruciato, è uno che è un grande successo, figuriamoci. Adesso vi troverò un sacco di hater che mi scrivono sui social. No, 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 no. Allora. Io so che tu lo trovi anche bello, Tananai. Io trovo che sia un bel ragazzo e sarà un affascinante uomo, quindi. Deve fare qualcosa per le sue occhiaie, però. Bello, bello, Tananai. Va bene, insomma. Pure io c'erò le occhiaie, però. Sì, ma lui c'ha vent'anni. C'è una piccola differenza. Allora, caro Luciano, visto che tu hai dei segugi dietro le quinte, persone che sanno quello che noi non vediamo, quello che noi leggiamo, però loro lo sanno, ma che è successo di sera tra Anox e Madame? Perché oggi tutti parlano... Ma chi ne so? Aspetta, aspetta. Ezio, che è successo? È vero che si sono tirati i bicchieri d'acqua addosso? Ma qual è la ragione? Scusa, non ho capito. Allora, io ho letto sia di questi bicchieri d'acqua e poi ho letto anche che Anox, rivolgendosi a Madame, ha detto, ma vaccinati figlia mia, perché secondo me... Ancora questa storia. Ma perché io, anzi, l'Aox la vedo molto, anche lei proprio come ragiona, come ragiona con la tua testa, io la vedo molto Novax, e non sono sicuro che abbia detto questa cosa qua, l'Aox. Ecco, pure secondo me è un po' strana questa cosa, perché al mio avviso l'Aox non si è vaccinata, questo è il mio pensiero, a guardarla un po' come si comporta, un po' come lei nelle domande risposte. Attenzione, siamo un media, siamo in onda, non abbiamo detto che l'Aox ha Enovax, che dà l'idea che è una cosa diversa. Non abbiamo fatto questa dichiarazione, non ci denunciate per favore. No, assolutamente, assolutamente. Ma a proposito, ma Peppino Di Capri dove è finito? Cioè doveva cantare ieri sera? Non si è visto Peppino Di Capri, è arrivato Siani, ma Peppino Di Capri non si è visto. Allora, Siani, mentre dormivo mi sono svegliato, ho sentito Siani che parlava. Di Capri so che ha avuto dei problemi con la voce che probabilmente canterà stasera, tra tutti i duetti, pure lui. Ah, stasera, tra l'altro secondo me stasera è la serata più lunga, sai? Sassera potrebbe anche finire alle tre. Povero Fiorello, povero. Tanto io lo vedo in replica, non ne perdo una, non ne perdo una. Con la coperta, con la carina con la coperta e l'orologio sembrava un profugo, Fiorello. Adorabile, adorabile. Allora, per quanto riguarda invece Gianluca Grignani ieri sera che è uscito salendo la scala mostrando No War, poi quell'audio che non sentiva, sarà stato vero, non sarà stato vero, poi è tornato. È stato solo un problema suo, i casi sono due, ho accorto che la stava cantando male e ha detto la voglio rifare perché la voglio cantare meglio, però si è rivolto a un fonico, un fonico audio che gli ha detto ti avevo detto di tenermi la base, la voce più bassa perché la sentivo troppo, mi sono sbagliato, scusami, rimettimela come era prima. Una cosa che a vent'anni non avrebbe fatto Grignani chiedere scusa perché... Ah beh, non lo so, non lo so, lo conosco, l'ho intervistato però parecchie volte e devo dire che è sempre stato molto carino, molto gentile. Ah, bene, chiuso. Vuoi commentare la scritta No War tu? No War, ti volevo... che cosa ne pensi? Vi sei considerato che si parlava di Zelensky che partecipa o non partecipa a lettera o non lettera a questo No War? Poi sai, queste cose uno pensa sempre che possano essere un po' strumentali, certo la guerra c'è, non c'è soltanto in Ucraina, come ha detto il Papa nel suo viaggio in Africa ci sono tanti posti nel mondo dove ci sono guerre forti, pesanti, che durano da anni, non c'è solo l'Ucraina, quindi che No War valga per tutti, sempre. Per tutti, sempre, assolutamente sì. Parliamo della prima donna erisera, Paola Egonu, ma quanto è bella. Ti è piaciuta, hai visto la differenza di altezza tra lei e Morandi, la telecamera secondo me faceva fatica a fare l'inquadratura. Bella, mi è piaciuta, devo dire che poi per essere una palavolista ha un'eleganza che mi ha meravigliata perché è un bel portamento, anche perché un metro e 93 potresti invece ha proprio più presenza, più prestanza fisica della Ferragni che tutto sommato abbiamo visto che... Un po' gobbetta. Sì, ciao. Un po' è la curva di chi sta troppo sullo smartphone, secondo me. Penso adesso così giovane. Questa sera invece ci sarà l'attrice Chiara Francini, che sarà sul palco, ci sarà Allegria. Sì, lei è una debordante, bisogna stare attenti perché il ruolo della co-conduttrice, non Valletta perché non Valletta finiamo per essere criticati, la Valletta non esiste più, però comunque è una figura femminile accanto che annuncia le canzoni. Quando una deborda un po', le critiche sono sempre in agguato. Lei è una che deborda perché lei è una simpaticissima, è lì che fa la sua cifra, la differenza. Staremo a vedere, lei però è molto simpatica, certo. Allora, tieni la sveglia, mettiti due stecchini, piglio un caffè in più, cerca di stare sveglio che così almeno domani possiamo raccontare più canzoni che abbiamo visto, più duetti. Faccio un po' che mi faccio una pennichella prima della serata, va, stasera. È venerdì, si può fare. Domani avrai orari più flessibili, più tranquilli magari. No, assolutamente no. Però va bene così, va bene così. Luciano Pazzaglia, ragazzi, lo staccano vista, lo dovete sapere, quindi lui sempre... È anche ora che vado in pensione quasi però, diciamo la verità. Perché? Perché così, perché un po' più di quarant'anni di radio, basta, insomma, basta. Ma sei bravissimo, dov'è il problema? Alanna l'ha detto, ha detto... Non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. A domani, Lucio, ciao. A domani, Daniela. Ciao. Buona serata e buon Sanremo a tutti, eh. Ma Peppino Di Capri dov'è? Che ne so.